37 posti di lavoro dedicati a persone disoccupate o inoccupate è la possibilità preziosa a disposizione sul territorio di fabbriche di Vallico. La sede del municipio ha ospitato una riunione pubblica dedicata al progetto. La sala consigliare non riusciva ad ospitare tutte le persone presenti, giovani ma anche over 50 interessate all'opportunità. Il sindaco Michele Giannini ha spiegato passo passo tutto il progetto che permetterà 37 disoccupati o inoccupati di lavorare per 12 mesi. Il progetto Ecomuseo è un progetto di valorizzazione turistica dell'Ecomuseo Galfagnino in questo caso quindi di fabbriche di Velgemone di Gallicano in cui il comune di fabbriche di Velgemone ha investito 50 mila euro per creare insieme alla legione Toscana 38 posti di lavoro sul territorio comunale. Si tratta di promuovere turisticamente il territorio. All'incontro erano presenti anche i responsabili delle tre cooperative che si occuperanno di assumere il personale necessario per operare nei settori del turismo e della riqualificazione del territorio. Al termine della serata c'è stata la possibilità di presentare e protocollare la domanda. Sono contento che in minima parte si potrà risolvere il problema di tante famiglie e nel contempo sviluppare turisticamente questo territorio. Due problemi risolti con un'unica soluzione merito della regione Toscana a cui va il mio ringraziamento di cuore. Il termine della presentazione delle domande è fissato per fine marzo.